Salerno, mercoledì 4 dicembre, alle 9.30, presso il Salone dei Marmi di Palazzo di Città ospiterà la terza tappa del roadshow Si Saggio Guida Sicuro. A portare la sua testimonianza agli oltre 250 studenti del territorio salernitano, il consigliere comunale di Salerno Gianluca Memoli, che nel 2004, ad appena 21 anni, in seguito ad incidente stradale ha perso l'uso delle gambe, incidente stradale causato da un pirata della strada. Alla sua undicesimo edizione, il progetto ha incontrato e sensibilizzato ad oggi oltre 39.000 studenti delle scuole secondarie e degli Atenei della Regione Campania.